La quinta tappa del Tour de France femminile oggi ad Albi ha incoronato Riccarda Bauernfeind, una giovane tedesca che ha compiuto una splendida impresa solitaria. Si era già messa in mostra all'inizio di maggio alla Vuelta, chiusa al quinto posto, oggi si è consacrata come detto, ha vinto ad Albi e questo successo la proietta anche nei quartieri alti della classifica, è in top 10 e sicuramente sul Tourmalet sabato vedrete che non sarà lontana dalle prime, potrà quindi ulteriormente migliorare se possibile la sua classifica. Questa vittoria di questa giovane tedesca 23enne mi dà lo spunto per fare un punto della situazione nel ciclismo femminile. All'inizio dell'anno c'erano state delle lamentele da più parti, vabbè una delle parti era Patrick Lefebvre quindi non fa tanta notizia che il decano dei team manager si sia lamentato. Però anche dalla Movistar per esempio venivano dubbi sul calendario, sul fatto per esempio che la Vuelta fosse stata anticipata da settembre a maggio, subito a ridosso delle classiche e che le cose più importanti fossero sin troppo concentrate. Poi quest'anno con il mondiale all'inizio di agosto abbiamo fatto bingo praticamente. Quello che dicevano questi team manager era che le squadre non avevano un grosso bacino da cui pescare atlete che fossero all'altezza di garantire una presenza qualificata e continuativa nell'arco di un'intera stagione. Per cui insomma il calendario, il Women's World Tour, correva e corre più veloce della possibilità dei team di rinforzarsi. Tant'è vero che poi molte corritrici sono costrette a fare i salti mortali, a fare molti giorni di gara e poi soprattutto da un certo punto in avanti iniziano ad esserci dei contingenti ridotti nelle corse. Questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione, però va detto che non è che a livello di base tutto sia fermo, tutt'altro. L'esempio della Canyon Sram Racing, che è la squadra di Bauernfeind, per esempio è lampante. La Canyon ha un development team da cui sta tirando fuori delle giovani promesse, speranze, ma già atlete affermate possiamo dire che la Bauernfeind oggi cosa ha fatto se non vincere davanti a tutte le più forti al mondo. Al giro avevamo visto Antonia Niedermeyer, appena ventenne, che aveva vinto una bella tappa, era pure ben messa in classifica, poi però è caduta e si è dovuta ritirare. Ma non mancano i nomi appunto destinati a prendersi il centro della scena da qui a pochissimo. Basti citare Gaia Realini per il movimento italiano, in Francia c'è Giuliette Labusche, ancora molto giovane, 24 anni, ce ne sono, ce ne sono tante. L'età media non è così avanzata, la stessa Demi Vollering, che è un po' la nuova vedette, il nuovo faro insieme alla tramontante Annemiek van Vleuten, dico tramontante non per i risultati ma per l'età, per quanto riguarda Annemiek. Dicevo la stessa Vollering va per i 27 anni, insomma quindi ha ancora molte stagioni davanti a sé per fare bene e per fungere diciamo da trade union, tra la vecchia guardia, quella che è appunto con van Vleuten, Marianne Vos e altre, l'Italongo Borghini, va verso la parte finale della carriera e queste giovani rampanti che ci fanno pensare che insomma c'è comunque un ottimo futuro per il ciclismo femminile, ma dico di più, è una transizione quella che viviamo. Poi domani magari approfondisco anche questo fatto di questa transizione che ci sta permettendo di vivere in pochissimo tempo, in pochissimi anni, tutta un'evoluzione che per esempio invece tra gli uomini abbiamo visto in molto tempo, ne parliamo domani. Dicevo anche il fatto che il ciclismo femminile sia comunque sempre più visto in televisione, sui vari dispositivi, che sia quindi sempre più conosciuto e popolare e che quindi queste atlete facciano colpe, facciano presa magari su tante giovani, ci dice, ci garantisce che questo bacino è destinato ad aumentare. Quindi sì, nel breve c'è forse qualche problema per le formazioni, per le squadre ad allestire una rosa di altissimo livello in tutte le sue componenti, però diciamo che già sul medio periodo questo problema andrà a svanire anche perché c'è un altro fattore che tra le donne, molto più che tra gli uomini, la multidisciplinarietà fornisce di continuo nuove leve che vengono dalla pista o dal cross, è inutile che mi metta a fare elenchi, le conosciamo, insomma ne parliamo tutto l'anno di queste ragazze, alcune si perdono poi per strada, però insomma tante restano e diventano protagoniste anche del ciclismo su strada e del world tour. Quindi dal mio punto di vista e questo mio punto di vista è suffragato appunto da giornate come quella di oggi e da imprese come quella della bravissima Riccarda Bauernfeind, il ciclismo femminile ha veramente anni radiosi davanti a sé e questo ci rende tutti veramente contenti.